Allora amici faccio fatica a stare dietro a Fede, si è atterrato in Sardegna a quanto pare, ma è stato a Saint-Tropez fino alla scorsa notte per un evento con chi? Con Johnny Depp, niente, come se fossero amiconi da una vita nella stessa barca, mamma mia ragazzi. E state con noi perché adesso arriva anche Paloma, quindi foto veramente bellissime di Fede, potete dirmi quello che volete, ma un uomo poliedrico e super cool, pur essendo un boomer. Allora la nostra Valentina Ferragni di cui non si occupa mai nessuno, a me questa ragazza piace sempre veramente molto e adesso arriva la nostra Palomelli, prima con Marina Di Guardo e poi anche con Fra Ferragni e arriva anche Gabri, al prossimo video, ciao!